Una nuova rotatoria fra la sua comparsa Teramo in uno snodo particolarmente importante su Via Po, all'incrocio con Via Fonte Regina e nei pressi dell'intersezione con Via Flaiani. Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Brucchi, dirigenti comunali e gli assessori ai lavori pubblici fra Cassa e al traffico Cozzi hanno effettuato un sopralluogo sul tratto di strada dove sarà collocato il nuovo rondò. Come spiegato dal primo cittadino, in questa settimana il progetto per il quale sono state individuate le risorse sarà portato in giunta e dentro la fine del mese la nuova struttura del traffico prenderà vita in forma provvisoria e sperimentale. I giorni successivi saranno utili a capire in che modo il provvedimento avrà impatto sulla viabilità di una delle principali arterie della città. I semafori per questo non saranno subito rimossi ma solo spenti, rotatoria che diventerà definitiva una volta che saranno constatati gli effettivi benefici dell'opera. Un po' come sta già accadendo per le rotatorie all'altezza del bar Promenade e di quella all'incrocio tra Ponte San Gabriele e Circonvallazione Ragusa. Lo stesso sindaco Brucchi ha ribadito che i tanti pedoni che usufruiscono del tratto di strada di via Fonte Regina e via Flaiani anche con la rotatoria potranno muoversi in sicurezza nei percorsi pedonalizzati protetti. Con la realizzazione di questa rotatoria due saranno i semafori rimastettivi all'incrocio tra via Crispi e via Roma e in via Riccitelli. Le nuove rotatorie si inseriscono nell'ottica di una più completa rimodulazione della viabilità terramana su cui l'amministrazione sarà al lavoro nei prossimi mesi, lavoro che si completerà portando in Consiglio Comune il nuovo piano urbano del traffico. Lo strumento però dovrà integrarsi con il piano della mobilità sostenibile che prevede a sua volta la realizzazione, tra le altre cose, di piste ciclabili su Via Po, Via Le Crispi e Ponte San Francesco.